Quando avevo otto anni, mia madre morì a causa di un incidente d'auto e fino a poco tempo fa ero convinto che quello fosse stato il momento determinante della mia vita. Non sapevo che il vero momento sarebbe arrivato 17 anni più tardi. Di solito pensiamo a una seconda occasione come un modo per andare avanti, per voltare pagina. Mi dispiace. Charles. Ma io credo che la seconda occasione sia fatta per accettare. Ecco perché è così rara. Perché accettare chi sei e che cosa vuoi veramente non è facile come ci piacerebbe pensare. Ho letto il tuo articolo sul Vigile del Fuoco. Era eccellente. Un bel modo di chiudere la serie. Grazie. Buona fortuna col nuovo lavoro. Ma spesso una seconda occasione ci porta proprio là dove saremmo dovuti andare fin dall'inizio. Sono felice che sei qui. Anch'io. Ho aiutato Charles Cole. Posso chiederti Perché hai cambiato idea? Grazie a te. Voglio ricordarla come la ricordi tu. Voglio ricordare quanto ero fortunato ad averla come mamma. Anche se purtroppo solo per poco tempo. So che è quello che lei avrebbe voluto. Papà, posso farti una domanda? Potendo, qual è l'ultima cosa che le avresti detto? Grazie per avermi amato.